Il big match della nonna di andata in prima categoria si gioca a Porcari, il compito si presenta arduo per l'undici di Mister Galassi al cospetto di una Torre Laghese finora autentico rullo compressore. I giallo-viola di Alfredo Casani hanno finora raggranellato sei vittorie a un pareggio, c'è anche il Pietrasanta, vagli a fare da terzo incomodo, ma non giocherà. L'approccio dei padroni di casa è quello giusto e la Torre Laghese, almeno nella prima mezz'ora, ci capisce poco. Il vivacissimo Cortesi, attaccante del Porcari, viene anticipato al momento del tiro, quando si sta già pettinando, potrebbe andare in gol il Porcari anche al 25, ma il gol di Cortesi viene annullato per fuorigioco. Al 32esimo però la realizzazione buona ancora Cortesi porta in vantaggio l'Academy Porcari, un vantaggio diremmo meritato. Vibrante la reazione della Torre Laghese che non ci sta e stiora quasi subito il pareggio con una clamorosa traversa di Comelli. Si va a riposo con il Porcari in vantaggio 1-0, una ripresa tutta da vivere. In effetti la Torre Laghese si rovesce in avanti e ha subito una doppia occasione per pareggiare. Ci prova poi anche Marsili, ma la mira non è delle migliori. Al 63esimo gli ospiti restano in 10 per l'espulsione di Capitan Pacini per doppia munizione. Porcari abilissimo ad approfittare della superiorità numerica e a ridosso della mezz'ora giunge anche il raddoppio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo svetta Menchini per il punto del 2-0 che di fatto archivia il big match. Il pieno recupero, poi buono, potrebbe addirittura segnare il 3-0, ma tu per tu col portiere spreca così. Forse sarebbe stato anche troppo. Vince l'Academy Porcari che si porta due soli punti dalla vetta. Il campionato è riaperto, tutto da giocare, tutto da rifare.